Per noi la partecipazione a Great Best Work è stato un momento in cui ci siamo fermati dall'attività ordinaria di tutti i giorni e abbiamo chiesto alle persone che lavorano con noi che cosa pensavano dell'azienda e quindi abbiamo raccolto informazioni utilissime che ci hanno consentito di capire quanto le persone sono contente, quanto sono soddisfatte di lavorare con noi e come migliorare questa soddisfazione. L'anno scorso abbiamo partecipato per la prima volta e al primo anno ci siamo piazzati i primi per cui siamo veramente soddisfatti anche perché abbiamo veramente migliorato il modo in cui le persone lavorano con noi e quindi per noi è stato un risultato molto importante. Sicuramente il fatto che abbiamo tenuto in grande considerazione quello che ci hanno detto i nostri collaboratori quindi abbiamo raccolto le loro impressioni, i loro commenti e abbiamo cercato di mettere in pratica i suggerimenti che ci hanno dato.